La votazione è chiusa. Approvato. 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astenuti. E allora, buonasera da Bruxelles, buonasera dalla bussola. In apertura avete sentito il momento in cui il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha annunciato, ha proclamato il risultato del voto con cui la Presidente Ursula von der Leyen, a questo punto Presidente a tutti gli effetti, entrerà in carica domenica prossima, primo dicembre, e la sua commissione hanno superato la sanzione del voto del Parlamento europeo. Prima ancora di presentarvi i nostri ospiti, però andiamo ad ascoltare un passaggio che è abbastanza emblematico, che Ursula von der Leyen ha pronunciato nella conferenza stampa, che poi sempre insieme a Sassoli, intorno all'una e mezza di oggi ha chiuso questa giornata così importante per il futuro delle istituzioni europee. Il nostro titolo sono le ultime parole che ha detto prima di finire il suo discorso in aula Ursula von der Leyen, e dunque Long Live Europe, lunga vita all'Europa. E adesso sentiamo le sue parole invece in conferenza stampa. Questo voto di fiducia è in favore di un'agenda del cambiamento. Il cambiamento però non deve coinvolgere solo l'Europa. L'Europa però si trova in una posizione unica. deve dare l'esempio, soprattutto in tre settori, clima, digitalizzazione e equilibrio geopolitico. Sono fortemente convinta che un'Europa più forte condurrà a un mondo più forte e più stabile. E allora, così in conferenza stampa, un paio d'ore dopo la proclamazione del risultato, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, leggiamo anche, perché poi in tutte queste settimane il lavoro del Parlamento europeo e quello della Commissione che ha presentato i propri candidati, ovviamente poi entriamo nel specifico di questo, nel corso di questo speciale della bussola. Vediamo anche il tweet del presidente del Parlamento europeo Sassoli. Lo vediamo in inglese, lo traduciamo ovviamente all'impronta. Grazie al lavoro del Parlamento, la nuova Commissione europea è adesso pronta a cominciare i suoi lavori. I migliori auguri alla presidente von der Leyen e alla sua squadra. Lavoriamo insieme per cambiare l'Europa per il meglio e agiamo sulle materie che interessano di più agli europei. Questo è il tweet di Davide Sassoli, è il momento di presentarvi i nostri ospiti, che sono Tiziana Beghin, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, e poi c'è il capo delegazione del Partito Democratico, che è Brando Benifei, Mara Bizzotto, che non è capo delegazione, ma lo è stata nella scorsa delegazione, quindi in Italia i titoli rimangono sempre. Antonio Tajani, che è capo delegazione di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo e presidente della conferenza dei presidenti di commissione. E poi la dottoressa Ottaviani, che lavora per Eurofonica, che è una radio, adesso poi ci racconterà anche meglio, che ha una pianta universitaria, ha 36 sedi in Italia, lo ricordiamo soltanto con una parola, è la radio per cui lavorava Antonio Megalizzi, che qui nel dicembre dell'anno scorso ha trovato una morte assurda e mai dimenticata. Allora, è pronto il nostro corrispondente da Bruxelles, Alberto Romagnoli, che però è qui a Strasburgo e che ci commenta quello che è stato un discorso ampio, che ha compreso evidentemente la presentazione dei commissari, del team, della squadra di Ursula von der Leyen. A te Alberto. Sì, buonasera Donato e ai tuoi ospiti per dirvi quanto lunga e impegnativa la giornata di Ursula von der Leyen, con l'aiuto dell'infaticabile If Potio, vi facciamo vedere dov'è adesso la presidente della commissione, ovvero sia a pochi metri da noi e dalla vostra postazione, dove sta rilasciando delle interviste alle televisioni tedesche, il suo paese d'origine. Insomma, una giornata molto lunga, iniziata alle 9, quando Ursula von der Leyen ha illustrato gli obiettivi della sua squadra, che entrerà in funzione già domenica, perché in effetti è prevista una cerimonia molto formale al Museo della Storia Europea, dove le verrà consegnata una copia dei trattati istitutivi dell'Unione Europea, i trattati di Roma, da parte del presidente del Parlamento Sassoli, ci sarà anche Christine Lagarde, l'altra donna che conta nella politica e nell'economia europea, la presidente della Banca Centrale Europea. Insomma, allora, come sarà l'Europa dipinta da Christine Lagarde? La prima donna, appunto, alla guida della Commissione, ha ricevuto un consenso, 461 voti su 751 componenti dell'Assemblea, ancora più ampia del suo predecessore Juncker, 5 anni fa. Allora, la sua priorità è la lotta al cambiamento climatico, citato anche fra i fenomeni che devono spingerci a fare in fretta anche l'incredibile acqua alta delle ultime settimane a Venezia, poi la rivoluzione digitale, una rivoluzione nel modo di stare insieme, ma anche e soprattutto nel modo di produrre, e poi l'immigrazione, un altro fenomeno, ha detto testualmente l'Ussola von der Leyen, con cui dovremo fare i conti per molti anni, di fronte al quale l'Europa non deve rinunciare ai suoi valori, quindi non deve rinunciare, ha detto la presidente della Commissione, ad accogliere coloro i quali hanno diritto di protezione internazionale perché sfuggono da guerre e persecuzioni, ma deve anche rimpatriare coloro i quali di questo diritto non ce l'hanno. E poi appunto fra le varie proposte, quelle di utilizzare la flessibilità, tema molto caro al dibattito politico italiano, nei termini previsti dal patto di stabilità e crescita, qui Gentiloni ha detto che la flessibilità però non è sufficiente, ha detto anche il suo primo impegno, la sua priorità come commissario dell'economia è quella di rilanciare la crescita, c'è stato un dibattito molto lungo, molto ampio, anche perché sapete, ne abbiamo detto tante volte, è una maggioranza per la prima volta con tre partiti che per ogni anni massima hanno votato in maniera convinta per la nuova presidente, mentre viceversa i verdi, dove avrebbero dovuto essere interessati a molti di questi temi, non sono stati convinti da Ursula von der Leyen, così come nemmeno la sinistra radicale e i gruppi sovranisti. Per il momento è tutto donato, restituisco la linea a te, ai tuoi ospiti. Grazie Alberto, buon lavoro. Allora, io nel ricordare, poi i numeri sono sempre importanti, soprattutto in politica, 461 voti a favore ha ottenuto la commissione, il team von der Leyen è ovviamente il suo presidente, 157 contrari e 89 astensioni. Rispetto al risultato di Jean-Claude Juncker di cinque anni fa, c'è un miglioramento, perché erano stati in quel caso 423 voti a favore, 209 voti contrari e 67 astensioni. L'uomo che in assoluto ha guidato la commissione, che ha avuto più sì nella storia recente, è stato Romano Prodi, che ne ebbe 510. Ora che abbiamo finito con i numeri, cominciamo con i giudizi. Un primo giro in senso orizzontale, onorevole Begin, capo di legazione del Movimento 5 Stelle, proviamo a farlo in un minuto, perché poi abbiamo cercato di organizzare questo speciale in modo da tematizzare il più possibile ciò che è stato detto dal presidente von der Leyen, che ovviamente ci serve a capire come procederà il lavoro di questa commissione, quindi il governo dell'Europa, ovviamente di pari passo col Parlamento. Allora, come l'è sembrata? Beh, noi non siamo soddisfatti al 100% della commissione, è innegabile, lo abbiamo anche dichiarato pubblicamente durante il dibattito. Ci sono dei commissari che non esprimono completamente quelli che sono i nostri desiderati in termini di trasparenza, senza di conflitti di interesse. Però crediamo anche che si sia raggiunto un equilibrio rispetto alla non difficile partita di mettere insieme gli interessi dei 27 Stati membri e crediamo anche che sia doveroso nei confronti dei cittadini europei e italiani dare stabilità e iniziare velocemente a lavorare. Per questo motivo noi l'abbiamo sostenuta, non con una cambiale in bianco, ma monitorando provvedimento per provvedimento e assicurandoci che ciò che è stato promesso e che almeno nelle premesse contiene molti punti della nostra agenda politica come Movimento 5 Stelle, siano poi rispettati nei prossimi mesi. Ricordiamo anche che c'è stato chi tra voi non ha votato a fuori della Presidente Forderai e della sua scala, Ignazio Corrao, è stato già dichiarato nel pomeriggio che non verrà preso nessun provvedimento, chiamiamolo disciplinare, da parte dei propri viri del Movimento 5 Stelle, quindi c'era una sorta di libertà di scelta. Corrao, ad esempio, ha votato contro, soprattutto per il tema del MES che poi andremo a ritrovare. Benefei? Ma allora, io credo che oggi abbiamo visto come il lavoro anche del Parlamento può migliorare e rendere poi forti anche opzioni che partono deboli perché von der Leyen, che è una figura politica di spessore, è stata però buttata in qualche modo in una fase complicata dell'avvio della nostra legislatura come nome che andava un po' a essere un nome nuovo, non era tra i nomi che erano stati al centro della campagna elettorale europea, quindi non mi ha stupito personalmente al tempo vedere che il suo avvio è stato un po' zoppicante, però questo con un voto diciamo con sostegno minimo. Questo voto invece di oggi, molto convinto, molto rotondo, forte, una maggioranza superiore a quella dell'avvio della Commissione Juncker in precedenza è il segno che il progetto, le idee che vengono portate avanti, al di là di figure, è stato detto alcuni commissari possono aprire ancora discussioni e lo vedremo, monitoreremo il loro lavoro, ma il programma, le proposte sono molto ambiziose, molto forti per cambiare l'Europa e noi lavoreremo su questo, ci parla del nuovo deal ecologico, di investimenti più forti per il lavoro, per il sociale, la lotta alla povertà, l'assicurazione europea contro la disoccupazione, ci sono parole scritte, chiare, anche rispetto alla vecchia Commissione che su questi temi che ho appena citato a volte era molto più vaga. Parole chiare, impegni chiari, le vedremo alla prova anche ora del negoziato sulle risorse, perché credo che tutto questo richiederà oggi un bilancio, è quello su cui lavoreremo a breve, che sia all'altezza di queste ambizioni. Entreremo nel tema del bilancio, nello specifico tra pochissimo, il no rotondo della Lega, ce lo racconta Mara Bizzotto. Sì, il no convinto della Lega e di tutto il gruppo ID, perché questa Commissione non ci piace. È vero che nasce con una maggioranza importante, ma è una maggioranza divisa, perché i distingui sono già stati fatti anche in questa occasione. Nasce in ritardo di un mese, nasce dopo che tre commissari sono stati bocciati, tra l'altro di tre famiglie politiche diverse, quindi è una Commissione che nasce a ribasso. Ricordiamo che non è la prima scelta, doveva essere Weber, doveva essere altre persone e hanno trovato questo compromesso. O meglio, Macron e la Merkel hanno deciso che la von der Leyen era la persona giusta per guidare questa Commissione. Io sono convinta, noi siamo convinti che non è così. Abbiamo sentito tante parole, la terza legislatura che sono qua, queste parole le avevo sentite anche cinque anni fa, dieci anni fa. Non ho sentito parole concrete sul lavoro, sul meno austerità, sull'immigrazione, tante parole sull'ambiente e poche sull'agricoltura, come due cose fossero scollegate, quindi ne vedremo delle belle. E questo lo scopriremo solo vivendo. Presidente Tajani. Noi abbiamo votato a favore, primo perché von der Leyen è rappresentante della nostra famiglia politica, quella del Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezioni. C'è stato un tentativo di mettere un Presidente socialista, ma i socialisti non hanno vinto le elezioni. Timmermans adesso fa il Vice Presidente, ma non poteva fare il Presidente perché vince chi ha più voti da parte dei cittadini. Ci è piaciuto il discorso della von der Leyen oggi, soprattutto quando ha insistito sul tema dell'industria, quando ha parlato di innovazione e di ricerca a sostegno dell'industria, ci ha convinto quando ha parlato delle relazioni transatlantiche, quindi rapporti privilegiati dell'Unione Europea con gli Stati Uniti, ci ha convinto quando ha parlato di immigrazione, lo avete detto nel servizio, quando ha detto chi non ha diritto di stare in Europa deve essere rimandato a casa propria, quindi una serie di posizioni che coincidevano con le nostre posizioni. Detto questo però verificheremo durante il corso degli anni se queste scelte saranno applicate. Quindi bene la lotta contro il cambiamento climatico, ma la lotta contro il cambiamento climatico non significa dare colpi mortali all'industria, all'impresa, all'agricoltura, quindi giusto un'economia sostenibile, ma attenzione a tutelare chi crea posti di lavoro. Quindi bene innovazione e ricerca, noi anche per quanto riguarda gli investimenti in Africa, noi verificheremo se nel bilancio, e quindi ci batteremo perché il prossimo bilancio rappresenti anche gli impegni presi dalla Commissione oggi. Allora Martino Ottaviano, che tra l'altro per incisione è una biologa, che lavora ad Eurofonica, l'abbiamo detto, noi l'abbiamo invitata perché volevamo avere un'idea fresca, un giudizio fresco. Magari il suo giudizio coinciderà o riprenderà alcuni dei temi che sono stati trattati dai capi delegazione e da persone che hanno una grande esperienza politica. Lei come l'ha vista questa relazione? Cosa l'ha colpita? Sicuramente l'approccio ai cambiamenti climatici lo trovo un passo avanti, mentre ci sono dei punti sull'immigrazione che non toccano le mie idee politiche non sono compatibili. Per quanto riguarda invece in generale le attenzioni del pubblico più giovane nei confronti dei temi affrontati dalla Commissione, l'istruzione, i cambiamenti climatici e l'ugaglianza di genere. Molte grazie. Allora, oggi ovviamente c'è stata la presentazione di tutta la squadra, tra cui ovviamente anche Paolo Gentiloni. Sentiamo come la Presidente von der Leyen l'ha presentato appunto in questo momento solenne della mattinata in cui il team di Ursula von der Leyen è stato presentato nell'emiciclo e per ognuno dei commissari c'è stata una descrizione e ovviamente un apprezzamento. Ascoltiamo quello che ha detto su Gentiloni. Le cose che produciamo oggi possono essere cambiate, ma dobbiamo riscoprire la nostra sostenibilità competitiva. Cari amici, qui in questa Augusta Assemblea, in questo spirito, ogni Stato membro si è impegnato nei confronti degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E in questo spirito Paolo Gentiloni verificherà l'attuazione degli obiettivi. Lui ci crede e io credo in lui. Ecco, io credo in lui, dice Ursula von der Leyen. Ricordiamo il portafoglio di Paolo Gentiloni che è quello agli affari economici con una delega allo sviluppo sostenibile. Dopodiché il Presidente Gentiloni, commissario a questo punto eletto a tutti gli effetti, si è fermato per qualche minuto con i giornalisti e ha risposto alla nostra domanda e quindi la nostra domanda e la sua risposta. Il Presidente von der Leyen l'ha presentata con calore anche, diciamo, sottolineando alcune sue caratteristiche. All'irà del suo portafoglio, che ovviamente è estremamente significativo, ci sono delle altre priorità nel dialogo con gli interlocutori europei che lei vede per rappresentare gli interessi italiani? Vabbè, certamente le priorità sono oltre a quelle del rilancio dell'economia. Dobbiamo trovare una linea comune europea sui temi dell'immigrazione, dobbiamo concentrarci sull'innovazione tecnologica e le nuove politiche industriali. Dobbiamo trovare uno spazio internazionale più forte all'Unione Europea, tenendo insieme la nostra diplomazia, la nostra forza commerciale e il ruolo della moneta unica. Io lavorerò molto per rafforzare il ruolo della moneta unica come moneta di scambio a livello internazionale. Aggiungerei una cosa che mi piacerebbe molto poter aiutare a fare. Dobbiamo costruire un po' più di legami e un po' meno di divisioni permanenti tra i diversi gruppi di Stati, Nord, Sud, Est, Ovest. È chiaro che è molto facile da dire, è molto più difficile da fare, però visto che quando si parte bisogna avere obiettivi ambiziosi. Uno degli obiettivi ambiziosi, secondo me, è avere meno divisioni e questo può avvenire solo dalla spinta della Commissione e del Parlamento Europeo insieme. Allora, così Paolo Gentiloni, tra le molte suggestioni io vorrei soprattutto dedicarci a quello sullo sforzo di portare avanti la moneta unica. Stiamo trattando un po' la pagina economica, quindi ascoltiamo anche che cosa ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli. Alla fine è la conferenza stampa in cui ha fatto sostanzialmente da padrone di casa a Ursula von der Leyen, ribadendo però l'impegno del Parlamento e anche il ruolo del Parlamento, soprattutto per quello che riguarda il bilancio, lei l'ha citato prima il Presidente Tajani e non solo lei. Quindi ascoltiamo le parole di Sassoli e poi su questo inannelliamo la nostra discussione. Il Parlamento che vota il bilancio, che noi vogliamo essere parte della negoziazione sul bilancio, altrimenti non so quale sarà il giudizio del Parlamento sul bilancio e fare in modo che la democrazia europea sia più forte e soprattutto abbia delle capacità di risposta ai problemi più efficace di quella che è oggi. La democrazia la difendiamo se risponde alle necessità dei cittadini e allora abbiamo bisogno di meccanismi più forti e più adeguati a questo scopo. Io farei il giro al contrario con i nostri ospiti politici adesso perché il tema di come saranno investiti i denari che l'Unione ha a disposizione, lei l'ha esplicitato Tajani, no? Sassoli ha anche esplicitato quello che è il ruolo del Parlamento dicendo o c'è un confronto continuo e serio con la Commissione oppure noi su alcune vostre decisioni potremmo dire no. Dove lei vede possibili elementi di frizione nella relazione tra il Parlamento e la Commissione? Noi abbiamo chiesto come Parlamento un incremento del bilancio, vogliamo risorse proprie, cioè non più soldi dagli Stati membri ma per esempio tasse che vengono pagate dai giganti del web per fare di più, cioè rappresentare come Unione Europea un valore aggiunto attraverso il bilancio a ciò che fanno gli Stati membri. Questa è una delle cose che noi abbiamo chiesto, il Parlamento Europeo è stato molto chiaro, siamo autorità di bilancio, certamente non piegheremo la testa di fronte alle scelte che farà sempre la Commissione Europea, ci confronteremo con il Consiglio ma certamente noi vogliamo un bilancio finalizzato, non una semplice ridistribuzione dei soldi che arrivano dagli Stati agli stessi Stati, ma vogliamo una politica industriale, una politica agricola, una politica per l'innovazione, una politica per la ricerca, la lotta contro il terrorismo, quindi investimenti in Africa per risolvere finalmente la questione dell'immigrazione, quindi una strategia per un'Europa politica. Se pensano di fare un'Europa burocratica troveranno da parte del Parlamento una forte resistenza e noi saremo in prima fila. Detto questo io ho qualche dubbio che poi per quanto riguarda le politiche economiche, avere il commissario responsabile delle politiche economiche aiuti l'Italia. Avete sentito cosa ha detto la von der Leyen a Gentiloni, lui dovrà far rispettare le regole, quindi sarà la guardia della Commissione Europea un italiano messa a guardia di altri italiani, questo non so quanto sia utile al nostro Paese. Io avrei scelto o il commissario al commercio internazionale o il commissario all'industria come hanno fatto i francesi che ora tutelano le loro imprese nel settore dello spazio e nel settore della difesa. Visto che parlo a Gentiloni oltre ad essere italiano viene anche a perdere mercato, facciamo subito rispondere bene i fei a Tagliani. Ma intanto un po' mi stupiscono queste parole del Presidente Tagliani perché Forza Italia ha sostenuto il commissario Gentiloni nel momento dell'esame e quindi no, nel senso che... La prego Tagliani, nessuno l'ha interrotta, nessuno l'ha interrotta, non è mica un attacco a Gentiloni, l'abbiamo dato, l'abbiamo detto. È stato sostenuto, evidentemente è stata considerata comunque una scelta utile, io credo che questa valutazione che è stata fatta sia errata, in quanto oggi, come ha ricordato prima rispondendo alle vostre domande il commissario Gentiloni, proprio con la costruzione di una zona euro resistente, resiliente, come si usa dire, con una propria spazio di azione fiscale, anche rispetto ai temi del bilancio che venivano citati, quindi una capacità fiscale della zona euro sia per fare investimenti aggiuntivi, se ne sta discutendo, così come il tema delle risorse proprie che è stato citato, così come l'accompletamento dell'unione bancaria, tutti temi dove Gentiloni avrà un ruolo fondamentale, noi lo aiuteremo per fare le scelte giuste, cioè dare alla moneta unica che è stata costruita con dei deficit strutturali oggettivi, quella forza di essere invece una moneta unica davvero in grado di veicolare l'Europa e soprattutto la zona euro verso il futuro e verso le nuove sfide che sono quelle che abbiamo ascoltato sia da Gentiloni sia dai colleghi, quindi la propria spazio è che sia stata una buona scelta e sono convinto che farà un ottimo lavoro il nostro commissario. Allora, non riguarda direttamente, diciamo così, quello che oggi ha detto la Presidente von der Leyen, ovviamente, ma fa un po' da cornice al dibattito pubblico in questi giorni la questione dell'ISM, del meccanismo europeo di stabilità, che sta facendo discutere moltissimo in Italia, proprio per questo ad esempio Corrao del momento 5 Stelle ha dichiarato di non aver votato la Commissione. Allora, guardiamo che cosa ha scritto su Twitter, Matteo Salvini, leader della Lega, eccolo qui, l'Europa o cambia o muore o ritorna cristiana o non è, la Lega è pronta a ricostruire e non a seppellire l'ideale europeo sotto metri di direttive sbagliate e di mess, appunto, il meccanismo europeo di stabilità. Ascoltiamo anche su questo, ma non è una diversione, cerchiamo di tenere un po' tutto insieme il Ministro dell'Economia Gualtieri. Allora, qui la voce di Gualtieri non si è sentita, però immaginiamo, diciamo così, che ci sia stato un ragionamento, poi chiedo alla regia se è possibile rimandare in onda il sonoro di Gualtieri, magari in diffusione si è sentito, ma purtroppo per noi no, però ricomincio da Mara Pizzotto perché ovviamente il dibattito pubblico europeo ha un rimbalzo fortissimo su quello italiano e viceversa, soprattutto perché in Italia si vive una stagione cosiddetta di campagna elettorale permanente e allora nello schema economico, di sviluppo economico, di ambizione alla crescita che oggi la Presidente von der Leyen e i suoi, come possiamo dire, i membri del suo team hanno rilanciato, quanto può pesare la vicenda MES? Molto, però una riflessione mi si è consentita, sono l'unica, la Lega non ha votato la Commissione ma vedo tante perplessità in voi tre che invece la Commissione l'avete votata, quindi sono un po' preoccupata di questo. Del resto capisco soprattutto gli amici dei 5 Stelle visto che hanno dovuto votare per Gentiloni quando giusto un anno fa Di Maio venne a Bruxelles accusando lo stesso Gentiloni di alto tradimento, oppure hanno votato l'Avestager che noi in Italia ricordiamo bene, soprattutto i risparmiatori italiani lo ricordano bene perché ha causato il fallimento dalle banche e la crisi di tanti risparmiatori. Quindi evidentemente i 5 Stelle hanno perso la bussola, giusto per citare questa bellissima trasmissione, e sul MES devono prendere una decisione. Il PD ha detto chiaramente, i Gualtieri prima di tutto, che il MES va bene. I 5 Stelle dicono che non va bene, noi l'abbiamo detto chiaramente, tra l'altro anche la Banca d'Italia ha detto che la revisione non è ammissibile e quindi vediamo cosa faranno loro, siamo in attesa. Vediamo se ancora una volta i 5 Stelle piegheranno la testa per una poltrona oppure difenderanno gli ideali per cui in fondo tanti cittadini l'hanno votato. Ecco, noi invece sul MES non molliamo perché significa mettere in crisi il nostro Paese. Replica immediata di Tiziana Begin, Movimento 5 Stelle. Io sono stupita un po' da tutte queste considerazioni che lasciano il tempo che trovano, ma del resto siamo abituati, perché i colleghi della Lega da sempre vengono al Parlamento Europeo per fare propaganda e non per lavorare, quindi questo è ormai il mantra di sempre. Sappiamo che per loro è molto più semplice puntare il dito e non risolvere i problemi, del resto lo hanno fatto anche a luglio quando si doveva entrare veramente nelle difficoltà, hanno preferito magari andare in spiaggia ed evitare di mettere le mani in quelle che sono le cose complicate da fare, come magari una legge di bilancio che è decisamente un argomento difficile. È evidente che ci sono grandi complessità e grandi sfide da dover affrontare. Noi come Movimento 5 Stelle siamo disposti a prendere, a fare anche scelte che sono o che possono apparire impopolari, ma che sono giuste e che vanno nella direzione di aiutarli i cittadini. In questo io non sono d'accordo sul fatto che, e non sono assolutamente contenta, lo abbiamo detto sempre, soddisfatta al 100% del fatto che sia stato scelto come commissario per esempio Gentiloni, dal nostro punto di vista doveva essere espressione del Movimento 5 Stelle, il commissario in Europa perché è la forza di maggioranza, ma comprendiamo che ci sono delle scelte a volte che devono essere fatte, si mettono davanti gli interessi dei cittadini prima di quelli delle forze politiche. E questo credo sia un segno di maturità che a molti manca e devo dire che in questo senso Gentiloni dovrà far rispettare le regole ed è giusto che lo faccia perché noi non vogliamo violarle, ma avrà la responsabilità di modificarle. E l'Avestager che non apprezziamo non dovrà portare benefici al suo paese, così come non lo deve fare nessun commissario. Se questa è la logica dell'Europa è giusto fare come fate voi che del resto volete uscirne. Se invece si è qui si lavora per migliorarla. Molto bene. Sul messo non ha risposto. Mi ha interrotto ma se vuole posso farlo. Sì, abbiamo dei tempi, lei legittimamente ha impiegato il suo tempo a rispondere alla polemica, la politica è fatta di questo, che era stata in qualche modo innescata dall'onorevole Bizzotto, però l'importante è che i temi siano trattati, non possiamo continuare sul messo, abbiamo tantissime cose di cui parlare. Allora io però vorrei adesso che la dottoressa Ottaviano facesse una domanda, prometto che non è stata concordata, gli ho detto poetica libera, dica pure quello che vuole, ad uno soltanto dei nostri ospiti e poi abbiamo un cambio di ospite e continuiamo con la nostra trasmissione. Qual è la domanda e a chi vuol farla? L'onorevole Benifei, visto che ci sono tutti questi dubbi sulla Commissione, stesso lei ha definita un po' debole, che cosa ti aspetta dal lavoro della Commissione nei primi 100 giorni? Sì, voglio chiarire su questo. Io ho inteso dire che all'inizio noi abbiamo visto una proposta che è partita con difficoltà, che si è invece molto rafforzata, oggi una forte maggioranza, qui alcune forze si sono tirate fuori, ma del resto alcune forze politiche preferiscono lamentarsi e non lavorare sulle questioni che poi riguardano la concretezza della vita dei cittadini. La nuova Commissione europea, secondo me, dovrà concentrarsi nel trasformare i suoi intendimenti molto ambiziosi in realtà, mettendo le mani da una parte alla complessa trattativa sul bilancio, come è stato detto, perché abbiamo bisogno di risorse finalizzate agli obiettivi che sono stati messi in campo, che abbiamo toccato un po' tutti, ma abbiamo anche bisogno che ci sia la capacità di costruire un sostegno fra gli Stati membri e dentro il Parlamento, perché non c'è dubbio che su come realizzare il Green New Deal, come realizzare la politica di investimenti, c'è da fare ancora qualche approfondimento, sicuramente anche fra le forze che hanno sostenuto la Commissione europea, però mi sembra che le priorità fondamentali che sono quelle di rendere l'Unione europea in grado di rispondere alle sfide del mondo che ci circonda, un mondo cambiato, un mondo dove anche nuovi grandi paesi si sono posti come competitori forti dell'Europa, mi sembra che ci sia la direzione giusta da questo punto di vista. Allora ringrazio molto Martina Ottaviano di Eurofonica, buon lavoro, la pubblicità, poi torniamo con questo speciale della Bussola, affronteremo alcuni dei temi, non tutti evidentemente che sono stati proposti e discussi oggi dall'Assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. E allora ben ritrovati a Strasburgo con questa seconda metà dello speciale che il Green New 24 e la Bussola dedicano al voto e dunque all'entrata in carica della Commissione von der Leyen, ricordiamo il nostro commissario che è Paolo Gentiloni, il lavoro della Commissione comincerà lunedì prossimo, il primo di dicembre e domenica ci sarà una cerimonia con un forte significato simbolico a Bruxelles, qui parteciperanno i nuovi eletti, quindi i nuovi vertici delle istituzioni europee e quindi ci sarà con David Sassoli, Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e anche la Presidente della BCE Christine Lagarde. Allora, molte grazie ad Angela Mauro di Huffington Post che è venuta a trovarci per questi prossimi 20, quasi 30 minuti, poco di meno. Cominciamo però a riprendere la voce di Ursula von der Leyen perché questo è il passaggio in cui affronta quella che è un po' la chiave, se volete una delle chiavi insieme alla digitalizzazione del suo mandato, quella del New Green Deal e quindi quella dell'ambiente. Ascoltiamo le sue parole. Oggi il mondo ha bisogno della nostra leadership, soprattutto nella tutela e nella protezione del nostro clima. Si tratta di una questione esistenziale per l'Europa e per il mondo. Come potrebbe non essere esistenziale quando l'85% delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, vivono nei 20 paesi più vulnerabili al cambiamento climatico? Come può non essere esistenziale quando vediamo Venezia sommersa dall'acqua, le foreste del Portogallo in fiamme, i raccolti della Lituania dimezzati a causa delle siccità? Questo senza dubbio è successo anche in passato, ma mai con questa frequenza e con questa intensità e non abbiamo più un momento da perdere nella lotta al cambiamento climatico. Allora, Angela Mauro, intanto vorrei chiederti di commentare l'aggettivo che ha scelto ovviamente con molta cura Ursula von der Leyen quando ha definito la questione climatica un fatto esistenziale. E poi visto che questo, lo dicevamo, è un po' uno dei punti di forza, poi ovviamente bisognerà vedere nel divenire dell'azione politica della Commissione quanto questo punto di forza lo sarà realmente. Ricordo sempre, faccio anche questa sera, che nelle poste di bilancio pluriannale sono stato calcolato un 21% dedicato all'ambiente. Poco, troppo, è una cosa di cui finalmente secondo te si comincerà a parlare, ad agire, anche nei limiti che Tajani in qualche modo indicava prima. Sì, attenzione alla questione climatica, purché questo però non porti un decremento in termini di produzione industriale e posti di lavoro. Beh, sì, esistenziale io penso che rifletta molto quello che è l'approccio particolarmente tedesco di usare, diciamo, l'economia circolare, il Green Deal, eccetera, per rimettere anche in moto proprio l'economia, per dare una sterzata a un mondo che evidentemente così non cresce più, non va più avanti, perché anche la Germania sta sperimentando in questo momento questi problemi. È un mondo in transizione, questa transizione in qualche modo bisogna spingerla, bisogna aiutarla. Altro è dire, io oggi ho notato che von der Leyen rispetto all'audizione, al discorso che ha fatto a luglio quando il Parlamento ha votato sulla sua nomina a Presidente, è stata molto più morbida, molto più ecumenica. Non ha detto cose che hanno seminato ricordo dei malumori anche nel PPE sulla Carbon Tax, per esempio, a luglio fu molto esplicita su questo, fu più esplicita sulla riforma di Dublino, oggi in aula non l'ha citata, in conferenza stampa gliel'ho chiesto, è risposto che è ancora una priorità, però è un segnale. Sull'ambiente, insomma, ha usato parole vaghe, un po' per accontentare tutti, per non seminare mal di pancia, malumori che si è visto in questi quattro mesi l'hanno messa molto in difficoltà, rinviando di un mese l'insediamento della Commissione e secondo me la giornata di oggi, dal punto di vista programmatico e contenutistico, lascia aperti tanti interrogativi, come si muoverà e quali saranno le maggioranze che la sosterranno, perché oggi nessuno si è posto in maniera pregiudizialmente contraria alla nuova Commissione europea, persino chi ha votato no, dai sovranisti fino alla sinistra del GUE, hanno tutti detto però vediamo i provvedimenti che fa, se ci piacciono noi li appoggiamo. I verdi si sono spostati dal no di luglio all'assenzione in grande maggioranza, qualcuno tra i verdi ha anche detto sì addirittura, esprimendo così un segnale di un'apertura di credito, però allo stesso tempo sono tutti per Ursula, nessuno è per Ursula, dipende da cosa fa e quindi quello determinerà anche le maggioranze che avrà in Parlamento, cioè ambiente e immigrazione sono i temi chiaramente più divisivi che possono determinare un discreto dibattito qui dentro e farci capire, possono farci capire anche da che parte pende un po' questa Commissione, oggi ha lasciato un po' tutto aperto. Allora io chiedo un'ultima risposta breve, se possibile a Tajani così lei ne ha data una di più benifei quindi questo giro lo salta, Tajani deve andare via alle sette perché è la riunione del gruppo dei popolari e quindi non possiamo trattenerlo oltre, ha sentito quello che ha detto Angela Mauro, la riflessione critica di proiezione, lei rispetto a ciò che ha detto prima, cosa si sente di aggiungere su questo? La von der Leyen ha detto una cosa importante, la centralità della persona, quindi tutto deve essere fatto per permettere alle donne e agli uomini europei di vivere meglio, quindi lavoro, certamente tutela dell'ambiente, rispetto dei diritti umani, ecco pensiamo a quello che è successo a Malta perché non se ne è parlato per niente, c'è il capo di gabinetto del primo ministro che è in galera perché è sospettato di essere uno dei mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, io l'ho detto nel corso del mio intervento, perché quando parliamo di diritti umani dobbiamo parlarne anche di rispetto delle regole anche al nostro interno, non soltanto denunciare quello che accade fuori, però per tornare alla politica ambientale, l'agenda non può essere dettata dal gruppo De Verdi perché è un gruppo minoritario, noi siamo favorevoli alla lotta contro il cambiamento climatico, ma ripeto c'è una priorità, che è il lavoro, senza lavoro non c'è dignità, l'ambiente è al servizio dell'uomo e l'uomo lo deve tutelare per tramandarlo così come l'ha ricevuto ai propri figli, cioè non è che l'uomo è al servizio dell'ambiente, quindi questo deve essere un principio molto chiaro, quindi attenzione a non danneggiare il lavoro, a non danneggiare l'industria, a non danneggiare l'agricoltura, che devono innovarsi, essere più respantosi dell'ambiente, certamente, però con una finalità molto chiara, tutto al servizio del cittadino. Molte grazie Antonio Tagliani che adesso ci lascia per andare a lavorare, grazie del suo intervento. Presidente, allora, dicevamo, io comincerei con l'onorevole Begin, dobbiamo andare un po' più svelti adesso perché dobbiamo trattare di cultura, che è importantissimo, di Brexit e di migranti, tutto in 17 minuti, allora, ambiente. Ambiziosi. Io l'ambiente credo che in realtà sia la nostra priorità numero uno, lo dico perché senza un ambiente sano non c'è vita, prima ancora che il lavoro, che sicuramente è fondamentale, ma non può essere prioritario rispetto all'ambiente. Io vengo da un weekend blindata in casa perché isolata da esondazioni in ogni dove. Purtroppo a pochi chilometri da casa mia una vicina di casa ha perso la vita in seguito agli eventi climatici di questi giorni. Mi sembra un po' anacronistico oggi pensare che l'ambiente debba venire dopo. Si può fare una politica rispettosa dell'ambiente e come giustamente diceva la dottoressa Mauro, anche farla diventare un plus rispetto all'economia. Perché oggi se vogliamo fare la concorrenza sulle commodity, su prezzi bassi ai paesi dell'est asiatico, piuttosto che anche alle grandi praterie degli Stati Uniti, per intenderci sui nostri prodotti agroalimentari, non andiamo da nessuna parte. Possiamo fare invece tanti investimenti verso un nuovo tipo di economia che sia rispettosa dell'ambiente e dia un valore aggiunto alle nostre imprese. Molte grazie. Allora ci fermiamo qui sull'ambiente. Andiamo immediatamente a parlare di migrazione, un altro dei temi che non potevano mancare nell'intervento della von der Leyen. Scegliamo questo passaggio. I nostri concittadini si aspettano che l'Europa trovi soluzioni unitarie alla sfida condivisa delle migrazioni. Le migrazioni ci hanno diviso, però dobbiamo fare un passo avanti. Abbiamo bisogno di soluzioni che vadano bene per tutti. L'Europa fornirà sempre un rifugio a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale. È nostro interesse che coloro che restano siano integrati nelle nostre società, ma dobbiamo altresì fare in modo che coloro che non hanno diritto a restare in Europa tornino a casa. Allora, onorevole Bizzotto, vengo subito, immediatamente a lei. Immagino che non le sia dispiaciuto questo approccio, oppure sì? No, l'ultima frase è molto interessante. È ovvio che se effettivamente chi non ha diritto a rimanere in Europa torna a casa e si vota qualcosa di concreto in questa direzione, i voti della Lega ci sono. E sono 28 e non sono pochi nella confusione che c'è, perché sono d'accordo che probabilmente ci saranno molte maggioranze variabili. E premesso che qui noi della Lega non siamo qui a pettinare le bambole, giusto per citare un amico di Benefei, ma per difendere gli interessi del nostro Paese, se si va in questa direzione noi ci siamo. Poi al di là le parole, voglio vedere i fatti, perché ricorderete tutti l'entusiasmo con cui è stato l'accordo, con cui è stato accolto l'accordo di Malta, la bozza dell'accordo di Malta. Parole che sono rimaste inutili. Quindi sull'immigrazione, se si va nella direzione di questa frase pronunciata dalla von der Leyen, noi ci siamo. Dubito che sarà così, però ecco, perché non mi fido, ma attendiamo con speranza. Tu Angela che dici? Dico che l'immigrazione è l'altra faccia delle responsabilità che ha questa Commissione europea, perché noi come Italia, ma un po' tutti i Paesi, aspettano da tempo. Non ho capito se è lei che è favorevole alla riforma di Dublino o no? Ha votato contro. Non è l'unico problema. No, no, non è l'unico problema. È una parte del problema. Non risolviamo il problema dell'immigrazione con la riforma di Dublino. Dobbiamo evitare le partenze. Ad ogni modo, fondamentalmente. A ogni modo, con il suo ragionamento legittimo, la richiesta di credito, però il ragionamento ha annunciato oggi che a primavera ci sarà questo pacchetto immigrazione della Commissione europea ed è ovvio che sull'immigrazione come sull'ambiente si misurerà la capacità di questa Commissione di ristabilire un po' di ordine, di capacità di azione in Europa, che se ne vede da parecchio tempo. Sarà difficile, perché comunque sappiamo che è un tema molto divisivo, non solo nelle famiglie politiche. Guarda, giudicherei forse più facile quello dell'ambiente, nonostante che assisteremo a scontri di Paesi più dipendenti dall'industria del carbone, a cominciare dalla stessa Germania o la Polonia, ma considero più facile il tema dell'ambiente che quello dell'immigrazione. Voglio proprio vedere cosa riusciranno a partorire in primavera. Molto interessante. Allora, non potremmo mancare Brexit, l'ha risolta con una sola parola, ovviamente, con una sola frase, Ursula von der Leyen. La ascoltiamo, poi ne parliamo con i nostri ospiti. Non l'ho mai nascosto. Sarò sempre contraria alla Brexit. Rispetteremo la decisione assunta dal popolo britannico. Lavoreremo insieme per trovare soluzioni a sfide comuni, soprattutto la sicurezza. Ma deve essere chiara una cosa. Qualsiasi cosa ci riserverà il futuro, il legame, l'amicizia tra i nostri popoli sono indissolubili. Allora, nella traduzione è saltata la parola con cui si era definita Ursula von der Leyen, che sarà sempre una Remainer. Per questo ve l'avevamo proposta. Allora, due rapidi passaggi su questo di Brando Bonifei e di Tiziana Begin. Cominciamo con Leo Neroe Begin. Non è sconosciuta la sua posizione, francamente molto europeista e molto aggregante. Questo può essere anche visto in chiave molto positiva, se seguiranno poi quelle politiche che permetteranno all'Europa di rimanere insieme volontariamente. Perché quello che forse è stato molto negativo nel primo approccio rispetto alla Brexit è stato un po' una sorta di atteggiamento punitivo. non si può costringere uno Stato membro a rimanere all'interno dell'Unione Europea. Si possono porre quelle condizioni per cui diventi profittevole per uno Stato membro rimanere all'interno dell'Unione Europea. Questo è il futuro. Detto questo, aspettiamo tutti ansiosamente di capire che cosa succederà il 12 dicembre e quindi poter anche noi fare poi dei ragionamenti su basi concrete. Mi permetto di dire che la favola di Brexit fosse successa, casomai all'Italia, ci avrebbero già sotterrato di critiche. Quindi, insomma, permettetemi una nota di colore. La nostra politica è sempre molto bistrattata. Abbiamo trovato qualcuno che è riuscito a fare peggio di noi. Per inciso, il 12 dicembre, per chi non lo sapesse, è il giorno in cui si celebreranno le elezioni anticipate nel Regno Unito. Benifei? Come ne abbiamo parlato altre volte, io penso che l'Unione Europea debba andare avanti. Questo significa che, in ogni caso, il capitolo Brexit deve arrivare a un punto. Dopo le elezioni che avverranno a breve, capiremo se il 31 gennaio si metterà la parola fine con l'uscita o ci sarà forse ancora un tempo supplementare, un nuovo referendum. In ogni caso, in poco tempo, noi dobbiamo arrivare in fondo. Perché l'anno prossimo inizierà con il lavoro comune del Parlamento, del Consiglio, della Commissione Europea, la conferenza sul futuro dell'Europa, che sarà il luogo dove riformare la nostra Unione. Ne stiamo discutendo anche in queste ore, anche qua dentro. Perché a noi interessa far sì che l'Unione Europea sia all'altezza delle aspettative che si pongono i cittadini. Non ci piace lamentarci, non ci piace piangerci addosso. Credo che l'Italia, e lo dico anche da Eurodeputato italiano, debba stare al tavolo che decide la prossima forma dell'Unione Europea. Perché è chiaro che, come oggi, l'Unione Europea ha toccato in maniera chiara prima Angela e la Mauro, i due temi più complicati, ambiente e migrazione, si devono trovare delle soluzioni. Io credo che anche il lavoro che è iniziato, per esempio, sul tema della migrazione, rispetto all'accordo di Malta, certamente non siamo arrivati a un punto. Ma si è iniziato a lavorare, dopo molti mesi in cui noi neanche venivamo alle riunioni. Ho saputo che Matteo Salvini verrà ad Anversa, finalmente viene in Belgio, perché alle riunioni del Ministro non veniva, e alle riunioni del Palamino... Grazie Benefei, cerchiamo di stare al tema perché ci rimangono otto minuti, vogliamo dedicarli alla cultura perché è stata aggiunta questa parola ad un portafoglio, che è una parola estremamente importante, e peraltro il Ministro della Cultura italiana Franceschini ha rivendicato un merito dell'Italia perché c'è stata una sorta di syndication di 11, 12, 13 ministri della cultura dell'Unione che hanno spinto perché ci fosse questo portafoglio con questa denominazione. E allora ascoltiamo l'annuncio di Ursula von der Leyen. La cultura e l'educazione sono ciò che lega la nostra storia con il nostro futuro. È quello che ci rende unici, la nostra anima, la nostra cultura, la nostra diversità, il nostro patrimonio culturale. E so che con Maria Gabrielle sono in buone mani. Per questa ragione sono lieta di annunciare che il suo portafoglio sarà ridenominato Commissaria all'Innovazione, alla Ricerca, alla Cultura, all'Educazione e alla Gioventù. Che sono cinque parole magnifiche, al di là delle parole ovviamente poi serviranno i fatti. Quanto è importante, perché questa vicenda begin, concludiamo con un giro orario, per favore non vi fate riprendere sull'ultima parola perché dobbiamo stare nei tempi e dare la pubblicità. Quanto è importante in una stagione quella delle edizioni e quella dell'assestamento anche nominalistico di questa Commissione, l'aggiunta di questa parola? Io sono dell'idea che si debbano rispettare un po' tutte le sensibilità e quindi il fatto che ci siano stati comunque anche delle recriminazioni è anche corretto trovare poi delle soluzioni che accontentino tutti. In questo senso io credo che abbiano fatto una scelta corretta e giusta, però permettetemi non è il titolo che definisce poi l'azione, quindi è sicuramente un'indicazione di quella che vorrà essere una volontà, ma in questo caso aspettiamo anche di vedere cosa saranno i fatti. È un portafoglio che viene considerato da tanti marginale e in realtà è un portafoglio estremamente importante. Ci auguriamo che venga portato avanti nel modo corretto. Melifei? Io credo che sia stata una scelta assolutamente giusta e voglio anche ricordare che anche i parlamentari si sono mobilitati, la senatrice Elena Cattaneo, Patrizia Toia per esempio si è impegnata molto qua a collega del Parlamento e tanti parlamentari di tutte le forze politiche per un risultato, quello di mettere anche a livello simbolico quelle parole nel titolo. Credo sia importante perché la cultura è quella che unisce l'Europa nella storia ben prima della politica, ben prima di queste istituzioni. Se noi vogliamo trovare una strada per proseguire nell'integrazione come io mi auguro abbiamo bisogno di ritornare anche a questo tema, alla integrazione culturale che è un tema europeo e richiede nuove politiche, politiche più ambiziose di educazione comune, di cultura comune. Credo che quando ridiscuteremo magari di come funziona l'Unione Europea, ne accennavo prima, anche questo tema debba essere toccato perché la cultura può essere credo lo strumento anche con cui costruire una maggiore unità degli europei. Bizzotto, è scettica? No, inserire una parola non costa niente, nemmeno inserire un concetto, quindi benvenga aver inserito anche la parola cultura, ma in realtà è in sede di bilancio quando valuteremo il quadro pluriannale che capiremo se la cultura è stata riempita di risorse, per che con le risorse si va avanti, quindi è lì che vedremo veramente la posizione della nuova Commissione. E lì noi della Lega ci saremo se ci saranno risorse per l'agricoltura, tutti difendono l'agricoltura, ma sono stati tolti i soldi all'agricoltura. Se ci saranno risorse per difendere il nostro patrimonio culturale, per mettere in sicurezza il nostro Paese, io sono Veneta, ma Venezia è di tutti, credo che risorse per finalmente mettere in sicurezza il Paese e l'Europa servono. Quindi è lì che vedremo veramente se la Commissione ha fatto veramente il libro di sogni accontentando tutti, perché c'era bisogno di una maggioranza trasversale, oppure se si va effettivamente a riempire questo libro di sogni di qualche contenuto. Se il contenuto va nella direzione di difendere il nostro Paese, aiutare i nostri cittadini, noi ci siamo con tutti i 28 voti. A differenza di 5 stelle che oggi hanno votato in 10 e 4 non hanno votato la von der Leyen. Allora, lasciamo ad Angela Mauro il compito di chiudere. Il riferimento alle risorse che ha fatto Reole Bizzotto ovviamente vale per tutto. Il pacchetto di idee, poi le parole e i concetti vanno trasformati in azione politica e per far questo servono dei denari. Al di là che immagino ti faccia piacere l'inserimento della parola cultura, come vedi la proiezione nel breve e medio termine di questa Commissione? Te lo devo chiedere in due minuti esatti. Guarda, prima parlavate di Brexit. Sulla cultura è assurdo anche che gliela abbiano dovuto chiedere tutto questo dibattito sul reale. Ti interrompo solo per un istante. Quando e se Brexit avverrà, ovviamente mancherà un contributore netto fondamentale e questo influirà sul bilancio. Infatti tutto è legato alla discussione sul bilancio che ancora non abbiamo inquadrato benissimo e alla prossima Presidenza nella quale si spesa, che sarà croata e quindi meno frugale, così viene definita in ambienti europei, di quella finlandese, cioè meno rigorista, meno austera. Quindi vediamo. Però prima parlavate di Brexit. Io dico che a maggior ragione per il fatto che molto probabilmente la Brexit ci sarà, la nuova Commissione ha una responsabilità e il nuovo Parlamento, il nuovo Presidente del Consiglio hanno una responsabilità in più di mostrare una capacità di azione vera da parte dell'Europa, ricostruire un po' questa Europa che esce abbastanza piegata, sfigurata dalla crisi economica e dalle ultime vicende degli ultimi anni, perché se no il rischio veramente è che la Gran Bretagna comincia a volare e andare bene, l'Unione Europea diventa la bad company di tutta una cosa che prima era unita. Questo rischio, lo vedo, dipende da von der Leyen se riesce anche a ristabilire un potere reale della Commissione sugli Stati nazionali che finora hanno disgregato l'Unione. Nell'interlocuzione ovviamente del potere legislativo che è quello del Parlamento. Certo, certo. Allora, molte grazie Angela Mauro di Huffington Post, Mara Bizzotto della Lega, Brando Benifede del Partito Democratico, Tiziana Beghini del Movimento 5 Stelle e anche ad Antonio Tajani, capo delegazione di Forza Italia, di cui il Vice Presidente è Martina Ottaviano di Eurofonica. Ci abbiamo provato a raccontare un po' nel più nel dettaglio quella che è stata la giornata importante, vedremo quali saranno i riflessi e il divenire. Domani con la bussola invece ci vediamo dagli studi di Roma alle 18.30. Come sempre, non perdete, buona serata.